Il primo tempo che sembrava che loro fossero una squadra di alto livello, poi alzi gli occhi sotto di 7 punti, ho sbagliato tante cose facili, ho fatto degli errori di concentrazione, allora ho detto ai ragazzi che andava bene così, c'erano delle cose da sistemare, però in un processo di crescita di cui io parlo sempre ci stanno anche queste partite qua in cui non fai magari sempre canetto, in cui fai degli errori banali, quello ci può stare, poi nel secondo tempo ancora peggio perché comunque abbiamo iniziato molto male, e poi più in perino dalla difesa abbiamo reagito e quello deve essere il nostro amante di fabbrica, io sono convinto che anche se siamo una squadra di alta qualità non possiamo pensare di vincere o di provare a vincere un campionato segnando 85 punti e giocando basket champagne, dobbiamo giocare vincendo le partite a 60, menando in difesa, facendoci menare senza fare una piega, andando avanti, cosa che nel secondo tempo abbiamo fatto. Sì, perché forse venivamo da una settimana un po' particolare, primo perché avevamo battuto comunque palestrina, una partita che ci aveva tolto un po' di energie, Palermo chiaramente la conosciamo meno, anche se tutti siamo consapevoli di che tipo di forza abbia questa squadra e che arriverà sicuramente fino alla fine, e quindi abbiamo avuto diversi problemi fisici in settimana, quello di Marcello ma anche influenze varie che hanno condizionato molto la settimana, siamo allenati poco e sinceramente anche male e quindi era una preoccupazione in più il fatto di averla vinta in questa maniera qua mi dà ancora più fiducia verso questa squadra, il carattere anche di questi ragazzi, dal punto di vista tecnico chiaramente, come ho sempre detto, siamo alla quinta giornata e quindi ci sono tanti aspetti ancora da sistemare, però aver battuto in serie palestrina a Palermo ci rende comunque in questo momento orgogliosi e proseguiamo su questa strada. Coach, quanto vale il fattore campo in questo campionato? Abbiamo assistito a una rimonta strepitosa, probabilmente anche in merito del tuo pubblico. Sì, quello sì, anche se fa ridere un po' dirlo, perché all'Eurobasket siamo questi, siamo il settore giovanile, i parenti, gli amici, fortunatamente si sta affacciando anche qualche tifoso che ci segue con grande simpatia, però giocare in questo palazzetto dove ci alleniamo tutti i giorni sicuramente è stato un qualcosa in più e io spero che tra poco diventerà piccolo, su questo sono sicuro. Deep da una parte, Riccidiello dall'altra, due essenze pesantissime, a ranghi completi sarebbe cambiato qualcosa, a tuo avviso? Beh, metti i due giocatori di una certa importanza, sia da una parte che da quell'altra. Non eravamo neanche al corrente sul fatto che Riccidiello fosse quasi pronto per giocare e non abbiamo neanche preparato la partita pensando che lui ci fosse. Al ritorno penso che un po' per come è andata stasera, un po' perché le squadre potranno essere anche diverse, vedi, per Riccidiello ci sarà molto da soffrire. Grazie a tutti.